Ci è sembrato doveroso ricordare e celebrare in modo assolutamente importante il ventanale della scomparsa di un grandissimo illustre lombardo, il professor Gianfranco Miglio. Attraverso la mozione chiediamo appunto l'istituzione di premi speciali, ma anche la dedica di una sala nel nostro splendido Palazzo Pirelli. Miglio è stato un precursore dei tempi, un visionario, una persona che ha parlato di federalismo, quindi superare il centralismo e la burocrazia dello Stato. Un tema assolutamente attuale, anche riaperto ultimamente dal ministro Gelmini.